E siamo all'aggiornamento Covid, numeri sempre in evoluzione, a creare scompiglio nella curva dei contagi alla variante Delta, ma il ministro Speranza ha ribadito ancora oggi che il vaccino resta l'arma essenziale e si profilla l'ipotesi sempre più concreta della terza dose, ma i medici di base si tirano fuori. Sentiamo. Come nel resto d'Italia, anche in Puglia si è registrato un lieve aumento rispetto ai giorni scorsi dei casi di positività, sebbene il tasso di positività sia più alto della media nazionale, fermo ieri allo 0,47%. A confortare sono le percentuali di occupazione dei posti letto in terapia intensiva al 2% e dei reparti di aria non critica scesa al 3%. Dunque la curva dei contagi torna a salire in Italia e in Europa a causa della variante Delta. Tuttavia non è solo la mutazione a determinare l'aumento dei casi. L'OMS ha lanciato l'allerta in tutta Europa perché in una settimana si è verificato l'aumento del 10% dei casi dovuto ai viaggi e agli spostamenti. La vaccinazione è l'arma essenziale che abbiamo e dobbiamo insistere con ogni energia affinché la campagna prosegua. Non dobbiamo dimenticare le settimane difficili che abbiamo vissuto. Sono le parole del ministro della Salute Roberto Speranza in audizione oggi davanti alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale alla Camera. Vaccinazione che nonostante i dubbi degli scettici è l'unico strumento attualmente in grado di evitare le ospedalizzazioni e i decessi. E la terza dose potrebbe arrivare a fine anno secondo quanto preannunciato dal sottosegretario alla Salute Costa. Ma i medici di medicina generale si tirano fuori dalla possibile somministrazione. Dopo aver dato la disponibilità a vaccinare, dobbiamo segnalare che gli accordi contrattuali sono stati disattesi. Abbiamo vissuto una drammatica situazione sul piano organizzativo e operativo. La distribuzione dei vaccini ai medici di famiglia è stata scarsa e improvvisata. Alla luce di questo e dei nostri impegni extra-Covid, siamo indotti a ritenere che l'eventuale assenazione ai medici di medicina generale della terza dose non potrà essere garantita. Sono le parole di Ludovico Abbaticchio, presidente nazionale dello SMIL, sindacato medici italiani. La ragione principale risiederebbe nel compenso previsto per i medici di base, di molto inferiore a loro dire rispetto a quello previsto per le altre categorie. La Puglia però non ferma la sua corsa alla vaccinazione. Questa mattina è prima in Italia con 92,7% di dosi inoculate. Oltre 3.800.000 su 4.100.000 consegnate.